Assessore, questa conferenza stampa per presentare l'umanità raccontata che riguarda un percorso. Intanto riguarda un incontro, l'incontro tra noi come amministrazione, in particolare come esperienza del servizio sociale sul tema delle immigrazioni, sull'accoglienza e l'integrazione dei cittadini migranti e dei paesi terzi che arrivano sul territorio, e l'incontro poi con l'associazione Io ci so che ha una bellissima mostra fotografica che racconta l'umanità in viaggio e il tema delle immigrazioni da un punto di vista veramente molto particolare che io ho potuto in qualche modo visitare e che mi aveva colpita particolarmente, peraltro venendo dall'esperienza tragica del 26 febbraio e quello che avevamo vissuto tutti quanti insieme. E poi c'è anche l'incontro con Vincenzo Montalcini, autore di Quale l'umanità, che sta andando in giro peraltro in tante scuole, in giro per il paese, e abbiamo voluto appunto mettere insieme queste esperienze e queste volontà per andare nelle scuole, evitando, smettendola di delegare e dire se ne deve occupare la scuola, ma mettendoci accanto alla scuola e portando loro dei messaggi, anche delle riflessioni che chiaramente poi vedremo insomma come si svilupperanno, perché dipenderà dalla sensibilità dei docenti, dei ragazzi ed è giusto che sia così e lo farà attraverso il linguaggio dei ragazzi, attraverso l'arte, attraverso la cultura, attraverso il racconto, attraverso l'esperienza di chi poi vive sul campo e in città, l'accoglienza, l'arrivo, l'integrazione delle persone che in qualche modo fuggono dal loro paese alla ricerca di una speranza di vita. E io ci sto, una bella iniziativa, l'umanità raccontata dal 27 novembre, la mostra itinerante nelle scuole crotonesi. Qual è l'obiettivo di questo percorso? L'obiettivo di questo progetto è quello di abbattere soprattutto dei tabù che si vengono a creare molto spesso tra i giovani. Cioè se noi riusciamo a evidenziare quelle che sono delle problematiche, come appunto la questione dei migranti, sin da subito, sin dalla media età, perché sono interessate tutte le scuole di crotone, medie e superiori, riusciamo quindi ad affrontare la tematica in maniera più facile nel futuro, cioè creare una classe dirigente futura che capisce la tematica, è sensibile a questa tematica e quindi riesce ad affrontarla in maniera totalmente differente rispetto ad oggi. E quindi soprattutto dobbiamo aggiungere che questo permette ai ragazzi di riflettere su quello che è stato l'evento di Steccato di Cutro e capire che queste persone fanno il viaggio della speranza per cambiare vita. Sì, dietro a ogni persona c'è una storia e soprattutto nella mostra fotografica a cura di Giada De Martino, Talatta Talatta, è proprio questo il simbolo che si vuole creare, cioè dietro ogni persona che è raccontata, che è impressa in una foto c'è una storia, una storia che va raccontata, appunto per questo l'umanità raccontata. Va spiegata ai più giovani e il motivo, anzi la soluzione potrebbe essere quella di creare una didattica alternativa all'interno delle scuole, perché una mostra fotografica semi permanente all'interno di una scuola io credo non ci sia mai stata, comunque difficilmente si creano questi contesti nel sud Italia. Quindi siamo fieri che il Comune di Cortone insieme alla nostra associazione, a Vincenzo Montalcini, a Francesco Pupa e a tutta l'equipe, anche il maestro Gasparietta Brescia e a tutta l'equipe di Io ci sto, stiamo creando un progetto del genere.